cosa fare a riboname spero naciui ci vespere non spero ci vespere e denis ci faris resumon mi faris la unua la vera unua parto la vera 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 unua mi faris resumon tutan parton sed mine sias se scribis correte ciar mi scribis sen traducilo istruisto maurizio maurizio mi successi al veni al contigio dei ci vespere brava istruisto cari gli amicoi chi è il vifartas vifartas buone chi è il vifartas mimosa che vi volas vi volassi partas trebone chi è il ciam e che buone 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 cari amico ci uvi successi leghi ca traducii ca resumi la lastan articolom la malpura coscienzo de usono ne de usono la malpura coscienzo de uno la malpura coscienzo de uno mi legis ma mi legis se ne sias se scribis correte bene l'articolo è Storan Pirolich che la titolo è la malpura coscienzo de uno uno è stati organizzati della luigita in azio e ma i pura coscienzo dou in più ci articolo l'io penis che la l'organizzazione dell'Università dei Nazionali ne è stata scura. Bene, e se vi leghi l'articolo, vi si aschia l'avvercisto dell'articolo, quindi la coscienza di uno è stata scura. Ci vi succesi, scomperi Gim? Evo, evo, evo. Dennis, ci vi leghi, ci vi resumis. Mi posso fare, mi posso fare, ma vero e malgrante resumo dell'Unua Parto. Della Unua Parto. Della Unua Parto. Vecchia Maltas all'Unua Parto, Dennis. Con volo cominciare a fare il resumo, anche una della tua. Anche una della mia. Con i miei amici, o Dio. Sì, e vi avvi una settimana per fare il resumo. Quindi vi avvi sempre. Comprendepe, comprendepe. E mi fa il resumo. Bene. Mi mostro che Anitta succesi a fare il resumo, che comprendepe, comprendepe. Anitta, è sto smalfru e ci vi spero. Ah, ci vi spero e sto smalfru. E mi mostro che tu vi succesi, leghi, che i traduci, che i resumi. Nella Unua Parto? Nè, della tutta articola. Tio, texto, parola, spri la volo della Osona Congresso, ci sige la malpermesson armi la Bosnian Armeon. Yes. 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 Tio signifus la ritiro della Blucaschiloi in Bosnia territorio. Yes, yes, yes. Tio, ci è stato il tema dell'articolo. Dell'articolo. Ebbene, perché questo opinis che l'aesto di Unua Forto in Bosnia, povis al permessi l'aggressione dei serbi e anche i croati al Bosnia. Mi ne stia se la Unua Forto in Bosnia può essere malpermessi alla serba di fare milito contro la Bosnia. Sì, ebbene, li pensis in tiomomento che ebbene la Unua Forto è sufficiente ai poti, ma al permessi tio, minestiasi. Buone. Dennis, chion mi comprendis della Unua Forto? Mi diris al vi, chion mi comprendas? L'autoro dell'articolo, chi es nomu ne estas indichita? Mi am diris al vi, Zoran Pirolic. Zoran Pirolic. 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 Mi scrivis, Antaglio. Yes. Lì scrivis, l'autoro scrivis, che la Blanca Domu montris veran pretesson levi malpermesson priarmigada Armigado di Bosnia-Armeo. Sì, sì, sì. Mi comprendis che mi leggas l'articolo. se tu mi comprendis che signifas quasi vivo e incialtis all'arco lampetto. Sì, sì, mi scrivis. All'arco lampetto. Quasi vivo e incialtis all'arco lampetto. Incialti estas elettrica verbo. Estas verbo che udiras chiamoni malfermas l'arco lampetto. Yes. No. Quasi vivo e incialtis all'arm lampetto e tala lingua estus come se qualcuno avesse acceso una lampadina dall'arco lampetto. Mi ci resta la traducata. La traducata, perdono. Buon volo da Ulrichi, la piante sua. Ancaù diversi rappresentanti di uno, Samo Pinis, che è nuligo nuligo della malpermesso, signifas sam tempan oriron della blu cascului. Yes, Tenis, se ti uccinestas resumo, ti uccinestas legato. Legato da più. Mi faris resumo. Mi faris legato nell'articolo. Mi faris supporto. Mi preferis che vi parolus per via i portui nell'articolo. Prefiro sti, c'è comprenneble, ci uini stias leghi l'articolo. E stas più interessa a fare il resumo, ma comprenni che giuste vi giuste leghi e comprenni l'articolo, l'articolo, che vi provascire al me, chi è un mio opinione espritivo. e poste mi scrivis che in loggiantoi ne volis la la foriro de blu casculo e ciari li paus elpi ilin mi scrivessi e la l'opinio della loggianto est istia minestia se la tia opinione o se sti giusta se dili pensis che la truppo un proforo povus difendi la truppo nederlanda e truppo in serebrenica ne nian faris contro l'agenosido se eble poste poste che uno autui a lui la situazio estis estis differente eble giuliano chi è mi successi traducchi e resumi per articolo da un nuovo parto la tuta parto mi traducis la tuta un parto la tuta un articolo la tuta un articolo poi poste che ancora ho ascoltato ascoltato audos la la resumione di cosa dirò 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 al nì che vi comprens l'articolo che ogni è stasle di canto la unu la unu un parton io non mi comprens dell'articolo yes yes della commenta la unu un parton allora mi pensas che è unui uno fortui estis ritirita mi prefera Giuliano è un momento dell'avercato dell'articolo l'avercisto nessias se la 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 truppo ide uno foriros a unè lì lì timas che la uno uno truppo i povas forir char la usona la usona parlamento la usona congreso montris la 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 intenso la intenso un levi malpermesso il preannicato del postine armeo lì pensis che più ci estis un po' usesti la la resononò della la foriro della della truppo se n'è ancora una truppo di foriro chiam l'avercisto scrivano l'articolo lì comprenas lì 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 opinias che la 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 risoluzio della l'autorza congreso o bus montri di an tenso lì sì se ne ancora uno forte for iris del post lì nè nè non è clara la penso della la penso dell' autore L'autore opinia che chiama l'ausono a congresso, diris che ne volus più malpermetti l'armigato del postio, l'aver chiesto pensi che io sia il mondo dell'intenso dell'ausono a congresso fuori righe la truppo di uno della Bosnia. Eble è l'autore con astrebone politica, mon politica. Eble è l'autore con astrebone politica. Lì vedi l'armigato, posto che l'ausono a congresso diris che io. Se ne ha ancora uno forte fuori righe la Bosnia. Mi penso che io ci muovo, la ritira della Blu Kaskiloi, il Bosnia territorio. Blu Kaskiloi lassus la Bosnia nella mano della Crescinto. Sì, la Bosnia nella Bosnia. La Bosnia. La Bosnia. Sì, io c'è questa l'opinione dell'archistolo. Bene, ciò vi voglio staurire il risumo dell'articolo. Mimosa. La unua parte o denis faris? Chiesto. Mi chiamo dire il risufficio della unua parte. Mi voglio scrivere i paroli anche oggi della tua politica. che ho servito. E la tua parte o la parola della politica dell'umanità dell'elpo della mondo. Sì, chi è questa l'opinione dell'archistolo della umanità dell'elpo della Bosnia? L'opinione dell'archistolo è che in questa maniera, la politica dell'umanità dell'elpo della nel mondo, né intervienis, né decide, intervenis contro la Crescinto. Sed, nur, purigis la sia conoscen... Purigis, purigis, purigis. Purigis, purigis. Purigis sia conoscenso. Conoscenso, antau la pubblica opinione. Sì. Chi ha l'aver chiesto di dirci? Mark Holland. La Londona Istituta per strategiai e esploroi. opinioni che mangiagioi e medicamenti ofte estis rabita da armitoi gruppoi. Sì. Sì, sì. e mi 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 dello della della che la britta da chi questo se datò della chiesto dell'articolo, anche io penso sia e che anche io che la... che la la reparo della damaggio e anche autio è ilo per Messi la la passo di armeo della servizia di 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 omai e poi e e e e e ci è stata l'opinione dell'artista della 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 marco holland 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 di yes della strategia esplode buone giuliano giuliano giulianca u leghistian parton della dell'articolo che anche odiava l'opinione marco holland di yes yes c'è umanitara helpo faris pli damaggio ol utilo faris lì damaggio faris damaggio lì lì damaggio accusate faris damaggio damaggio lì damaggio faris olutilon lì 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 agressito i rabbi nutragion che il medicamento usi lì 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 per usi contro la bolla il pollo sì 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 bene chi è questa santo l'opinione la differenza in l'opinione dell'averchisto inter l'umanità helpo in Bosnia che l'umanità helpo in Africa è è la differenza è che l'Africa è è è diversa lando è diversa situazione sì è la la razzamma la razzamma razzamma c'è sì sì compreniamo sì sì Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 le pratiche dei bossi. Sì. 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 Io da origi la resumione che la leggo. Mi miras che ciò vi vidis l'imago della cui re io andavo la domo che io estis lui di vita? Sì, mi vivis. Sì, mi vivis la vita. Lì ridis porresti più bella in la foto? Sì, mi vivis la vita. 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 Sì, Giuliano, che io dirò a Mimosa che io voglio cominciare. Sì, Mimosa. Mimosa è la più brava di me. No, Giuliano. Buona Mimosa. Buon volo, Daurighi, la resumo della frase. La persona è pieno e il coraggio di molti umanitari attivuoli, ca i soldati, chiui helpis la logiantaron, è apprezzabile. Sì, 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 sì. E se i landoi estis felici per il ritiriggio di uno forte? Cioè, lì pensas che uno potus controlli Bosnia. 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 E io pensas che l'Europa è sorguita solo per la paga, per la paga dei truppi in Bosnia per gli altri mobili. Quindi, io voglio ritirare i truppi, perché ne paghi ancora un moro per la situazione. Io non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito. Io non ho capito, non ho capito, non ho capito. No, niente. Io non ho capito. e nella mia maniera la guidante d'Europa e la mia Italia. Perché loro sentono armati, armati, moni e altri attori all'Ucraina per fare un malutile militare contro la Russia. Io mi dico più a essere un prenebile, né buone finità. In tutti i tempi è ora che tutti i giorni sorgono per la mano, per la mano, per la mano. Ci sono problemi per l'organizzazione della mano in Europa. Mi ricordo che la guidante, la ministra dei tempi, di tutti i tempi, siamo Romano Prodi, la ministra estro. Mi ricordo che non è sufficiente, non è sufficiente, non è sufficiente. E i miei tagli sono stati per il paese, ma non è sufficiente. Mi ricordo che il mercato è la più buona età, per ciò. Mi ricordo che il mercato è la più buona età. Mi preferisco London. Mi preferisco London anche. Mi preferisco London anche. London, tennis, mi preferisco. Mi potresti fare anche London. London. Yes. E mi devo solo fare anche l'unità. In questo posto mi potresti fare London. Per me non è questo problema.